Omixom, cos'è? Quali sono le sue caratteristiche principali? Omixom è un termosso intelligente, è la centrale che ha l'obiettivo di stare al centro della casa di tutti noi e ci permette di collegarci non soltanto con la caldaia ma con tutti quelli che sono gli elettrodomestici che ormai compriamo nei negozi e quindi elettrodomestici intelligenti. Che impatto ha la tecnologia sul risparmio energetico? L'impatto è molto molto elevato, l'obiettivo nostro in questo caso qui è proprio di rendere accessibile la tecnologia a tutti e far sì che avendo la tecnologia accessibile le persone possano risparmiare tutti quelli che sono i loro consumi energetici. L'obiettivo infatti è proprio quello di permettere tramite questo device intelligente di far sì che si utilizzi l'energia solo quando esclusivamente è necessaria. Avete già un'idea di quanto invece possa essere la riduzione dei consumi e delle spese per le famiglie? Questo dipende moltissimo dall'uso che se ne fa della tecnologia come sempre. In questo caso qui questo smart device ha la possibilità o di seguire quelle che sono le temporizzazioni che noi diamo ad esempio alla caldaia oppure di imparare dalle nostre abitudini e quando impara dalle nostre abitudini ovviamente ci permette di risparmiare di più. Poi sta a noi ovviamente insegnargli le giuste abitudini. In tema invece di sicurezza, come coniugare la sicurezza, la privacy e il risparmio energetico? Queste sono domande, è una domanda importante, anche piuttosto ampia in termini di risposta. Questo qui è un device che permette di essere più sicuri perché si collega con delle camere, quindi delle fotocamere che ti permettono di andare a monitorare quello che succede dentro casa. Da un punto di vista della sicurezza, della privacy, sappiamo che è un device che ha Alexa dentro, quindi abbiamo la possibilità di controllarlo da un punto di vista vocale ma abbiamo pure la possibilità, se vogliamo, di spingere Alexa quando abbiamo veramente bisogno di stare lontani dai sistemi intelligenti. Com'è la collaborazione con Alexa? È ottima, è ovviamente una grande azienda, noi siamo una grande azienda e spesso e volentieri quando si è entrambi delle stesse dimensioni è più facile parlare. Quali sono le specifiche tecniche di Omics? Ok, questo è un device, come dicevamo prima, ha 5 funzionalità e queste sono 5 funzionalità che più che tecniche sono nate da cosa vogliono i nostri clienti. In prima i nostri clienti vogliono il comfort termico e quindi è un termostato, un termostato smart che impara le abitudini delle persone e quindi riesce a tutti quei consumi che prima noi sprecavamo e in realtà lui in questo caso evita gli sprechi. Poi, secondo è, come abbiamo detto prima, è un Alexa building device, cioè tutto quello che puoi fare lo puoi fare con la voce. Oggi la voce è un trend molto molto forte, ci sono più di 150 milioni di device che gestiscono la voce oggi nel mondo. Altro elemento molto importante è un gateway, è un gateway che ti consente di connettere tutti i device possibili nella casa, dalle luci, piuttosto dalle prese smart all'allarme. È un sistema di allarme che puoi monitorare anche in questo caso da remoto e non ultimo tutte le funzionalità che puoi svolgere su questo schermo le puoi svolgere quando sei fuori casa sul tuo telefonino. Tutto questo ha un prezzo super competitivo che forse voi sapete a 149 euro perché noi vogliamo che questa tecnologia sia accessibile a tutti perché solo facendo in modo che questa tecnologia sia accessibile a tutti riusciamo effettivamente a cambiare e a ridurre l'impatto ambientale. Se è solo per pochi, l'impatto è veramente piccolo. Se lo diamo a tutti, l'impatto in positivo è veramente tanto. Avete già idea di quali potrebbero essere gli sviluppi futuri per Omics? La cosa interessante di questo device è che per la tecnologia che è a bordo ci ha consentito di fare tantissimi use cases. Oltre anche la stessa interfaccia, perché uno schermo? Lo schermo per noi è importante perché tramite lo schermo noi possiamo configurare un sacco di altri possibili use cases. Quindi la potenzialità di questo strumento, a differenza di tutti gli altri termostati, con uno schermo dove tu puoi fare poche funzionalità, qui sta solo alla nostra immaginazione o meglio alle richieste dei nostri clienti, alle esigenze dei nostri clienti, che sono tutte facilmente implementabili. Quindi è già personalizzabile? È molto personalizzabile. Oggi ci sono tantissime personalizzazioni che si possono fare. Ad esempio qui all'interno della sezione uno può inserire tutti i membri della famiglia e ogni membro della famiglia può dare un diverso profilo, sia il padre, la madre, il figlio, tutti. E una delle cose che hanno trovato molto molto interessanti è che, ad esempio, io ho un figlio di 12 anni che quando torna a casa la prima cosa che fa è accendere la Playstation. Noi proviamo a chiamarlo e questo figlio non risponde mai. La cosa interessante è che noi oggi sappiamo quando il nostro figlio è entrato a casa. Quindi perché ci arriva un messaggino e ci dice Nicolò è tornato a casa. Quindi senza stress da parte di mia moglie, senza stress di nessuno, ha semplificato anche in questo la nostra vita. Il nostro decidere sempre è che la tecnologia deve semplificare l'avito di tutti i giorni. E poi se vedrete i nostri video l'obiettivo è proprio quello. fare dei casi di utilizzo che semplificano l'avito di tutti i giorni di persone semplici e di famiglie semplici, famiglie comune, e perciò deve essere anche accessibili a persone comune e famiglie comune.